Un reddito universale incondizionato! Questa è una battaglia che lo dobbiamo portare avanti! Passato! Se il conte si sta in contro? Perchè? Cammina la piazza! Cammina la piazza! Sai che con questo io ho 157 processi perché? perché ero responsabile responsabile per noi per noi per noi per noi 10 anni di causa questo è costato 10 anni di causa lo farai di nuovo perché è stata un'esperienza e lo hai ancora perché guarda che c'è siamo dormiti basta niente per risvegliarsi cosa serve per risvegliarsi Grillo ci vogliono delle caratteristiche cosa ci vuole